Musica 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 Wahey Kuj, ben ritornati dal vostro AndroLink e da Motul in questo nuovo episodio di Nazma e Revengo Galaxy Big Bang Extra Oggi, cancello Leggendarion, un Legendary Gate per quanto riguarda credo Ogre Non so ancora veramente se andrò ad affrontare l'Ogre o un'altra squadra, quello che so è che si trova nella vecchia Raimon Penso che sia Ogre perché essendo appunto davanti alla scuola Raimon E ho detto svariate volte perché dico Raimon, perché dici Raimon? Si dice Raimon, ignorante! No, si dice Raimon Raimon Andate a cercare su internet perché Raimon si dice e non Raimon Eccolo qui, sarà Ogre? Non sarà Ogre? Vediamo, siamo nel passato quindi penso sia Ogre E Legendary Gate ci porta... Contro gli Ogre, perfetto Versus Oga Dovrebbe essere G-Oga, The Ogre Ma va bene Indumamoru, maledetto, rassaggerai la sconfitta del tuo amato calcio Dai nonno, ce la possiamo fare, possiamo salvare calcio sconfiggendo gli Ogre Certo che ce la faremo Nipote Livello 68 Mi avete scritto che è abbastanza fortina Perfetto, non potevo chiedere una squadra migliore Abbiamo Fideo Aldena In attacco Insieme a Kanon, Goenji, Hiroto Toramaru Kido Fubuki Kazemaru Kabayama Tobitaka E... Tobitaka si chiamava, si E Endo Mamoru in porta Wow, ancora mi ricordo i nomi giapponesi Somioka Kurimatsu Shiorin Potrebbe essere Si, Shiorin E... Max Questo si chiama Max proprio E... O era Honda Era Honda Era Honda Era Honda Abbiamo, ok, mano di luce Abbiamo anche lo spirito per fare appunto mano del colosso Si, dico in italiano così capite anche voi Mano Omega vi faceva schifo a metterla A meno che Great non è... Il nostro spirito Great non faccia mano Omega Perché c'è Magin, Greato Penso sia questo Per... Però non lo so E una cosa che mi interessa è chi ha Primal Legend Ehm... Bredo, Norris e Blade Non so come si chiama in italiano sinceramente Non mi sono mai informato Però se avete visto il film Io l'ho visto il film per ben due volte Uno in giapponese e due in italiano addirittura Uno in giapponese e due in italiano Però non mi ricordo il nome della tecnica Poi vabbè abbiamo Mistral che... Che è un attaccante Ha... ha... Death Spear che sarebbe appunto lancia micidiale Strike Samba Boh Lui ha... Lui ha... Death Spear e... Dark... Star Non abbiamo Death Break No, non ce l'abbiamo Lui ha... Mugenza Hando Mano insuperabile Contenti loro Dovrebbe essere difficile da quello che mi avete detto Sì... Sì... Infatti... Se sbaglio è difficile sicuro Ok... Non siamo in fuorigioco Vediamo un po' Allora... Lui ha... Gigaton Hedo Non so cosa sia Avrebbe anche Heaven Drive Ma... Cavolo... Vado con questa Voglio vedere che cosa è voglio vedere Madonna Santa E' la respinta in Azuma Ok... Questa qua ce l'ha... Ok... Ok... Non riuscivo a capire che diavolo di tecnica fosse Allora... Axel... Te la passo subito se riesco a rubarla Grande... Te la passo subito Ehm... Gigaton Hedo Ecco come cacchio si chiamava Non riuscivo a capire che roba era Oh i roto... C'è i roto... C'è i roto... Non c'è nulla invece Mia... Dov'è? Ma l'avevo lanciata in là Avevo visto Sono diventato strabico? Tutto ad un tratto? Può essere eh No... Allora... Devo un attimo... Rivedere... Ecco... Ma va molto meglio Perfetto... Perfetto... Allora... Un tiro lungo? E cavolo... Mi sa che mi fa gol... Andiamo un po' con mano di luce V... Death Spia! Lancia micidiale! O mortale in questo caso... 307... Ma una mano di luce V... 400... Tranquillamente dovrei farlo... 526... Meglio ancora? Cioè... Meglio ancora... Fino a un certo punto... Che poi... Scusa... Cosa è successo? Dannato... Eh... Na... Na... Oh... Non male! Non male! Root over sky! Ok... Axel ha la palla... Ma dove si trova? Contro un microbo... Ciao... Nooo... Aiuto! Eh... Vabbè Axel... Però pure tu... Salta, no? Giochi a calcio, no? Sai come si salta... Dicevo... Abbiamo lo spirito... Ma non possiamo attivarlo... Quindi... A che serve? Sapete... Qualcuno che me lo sappia dire? Oh... Ok... Axel! Axel! Bene... E sei da solo... Sei da solo ora... Con calma... Scegliamo la tecnica... Andrei con quella più forte... Ma andrei anche con Inazuma Break... Obakunets Screw... Lui è montagna... Quindi mi farebbe il culetto... E allora io vado con Inazuma Break... Scusami... L'Ariete Inazuma... Perché... Rottura Inazuma... Fa un po' schifo, no? Tradotto in italiano... Quindi... Ariete Inazuma è perfetto... 408... In realtà dovrei vincere contro... Una tecnica di tipo montagna... Ma lui è forte... A quanto pare... È forte davvero... 4 e 12... Dobbiamo farlo stancare... Ma... Consuma pochissimo lui... Con le tecniche... E vabbè... Allora... Ok... Consuma davvero poco... Non sarà facile... Fargli gol... Potrei provare un tiro a catena... O forse no... Abbiamo richiamo del lupo... Abbiamo Tormenta Glaciale... A livello massimo... Però abbiamo richiamo del lupo G3... A livello 3... Andiamo con richiamo del lupo... Un 4 e 50... Mi servirebbe... No mai... Sapevo io... Non poteva essere no... Oh grande... Grandissimo... Perfetto... E uno è segnato... Sono molto soddisfatto... Ottimo così... Molto molto bene ragazzi... Non me l'aspettavo di segnare... E invece è andata... Perfetto... E blocchiamo... No... Vai in scivolata... Tesoro... Tatino Bellino... Non possiamo bloccarli perché abbiamo finito i punti... Aia... Oh ragazzi... E' su e da... Attenzione c'è Jack... Faccio un attimo indietreggiare... Paro con mano di luce enorme... Strike Samba... Eccolo... Ok... Debolina... Ma siccome c'è Jack che ha muro di roccia... The Wall... Oppure... Iron Wall... Iron Wall... Iron Wall... Bloccata... Perfetto... Lancia... Lancia... Oddio... 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 Non l'avevo premuto bene... Corri... Mannaggia... Corri... Canon... Mo' ti blocca eh... Eh si... Si vede dell'animazione... Poco prima che... Tu capisca di essere bloccato... Oppure... Che tu possa avanzare... Capisci insomma... C'è quel frame particolare che ti fa capire... Andiamo un po'... Ah... Spinning Cut... Ok... Abbiamo... Scatto rapidino... Aiuto Paolo... Dai che ce la facciamo... Sii... No ma dai... Ma ma che sono si piccoletti... Che noiosi... Niente eh... Noi riusciamo a fermarli proprio eh... Nei a superarli, nei a fermarli... Ahhh... Vabbè, primo tempo è finito Probabilmente il Mark Evans che abbiamo È preimpostato su un altro Mark Evans Quindi Ha Great come Spirito guerriero ma non potendo Evocarli È inutile Insomma diciamo che hanno Risparmiato spazio e tempo Su un personaggio Che ci sta tutto Oddio che scocciatura Mistra tanto non ce la fai Vabbè da lontano Fai come ti pare, fai come ti pare Non serve neanche che mi metta in mezzo C'è Jack Eh no, vado con un muro di roccia Eh Anche non lo blocco Ok, indebolito Però intanto con mano di luce lo paro Coddoando Perfetto, perfetto E non volevo spre... Care punti Ho stretto un attimino le chiappe Perché sai no C'è un momento di cagazzo In quel periodo lì Quando Ravio è vicino alla porta Andiamo un po', voglio provare a segnare così Bakunet Shin Bakunet Screw Quindi la vera tormenta La vera... No Com'era? Esplosione? No Avvitamento esplosivo Avvitamento infuocato Perché io penso a Bakuretz Che praticamente è esplosione Quindi non mi viene immediato A forza lì gioca in giapponese Non ti ricordi quelle italiane Dai, dai, dai Bloccate il cipollotto Daikon Eh, lui si chiama Daiko Però in italiano è Radice Radice Che sì Dovrebbe essere tipo il rafano È una specie di carota gigante Il Daikon È la carota asiatica Per metterla in termini più semplici Offside Quanto giocano in avanti Sti pezz... Sti puzzoni Pezzenti no Perché fanno paura Sono però dei gran puzzoni Ne ho un po' Ce la facciamo? No C'è... C'è l'ammucchiamento C'è la mischia Niente Oh mio Dios Oh mio Dios Che succede qua? Vediamo un po' Speriamo? No Cos'è? Oh Shinkuma Ritorna Shinkuma Vuoto magico Ok Ice ground Ce la facciamo Buono Quella schiena dovrebbe essere rotta Ma non importa Perfetto Ottimo passaggio Ottimo passaggio E tiriamo Con un semplice tornado di fuoco Faglia torneo Che parerà sicuramente a mani nude Ma neanche Pam 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 Ok Ragazzi Il primo tempo è volato Il secondo non sta finendo Proprio mai Ottimo Ottimo Ci siamo No 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 È fuori gioco Qua mi sa che mi passa comunque Sì Infatti Mi ha fermato Ma neanche ci provo A che Oh Non ci credo Cosa succede? Superalo Grande Grand Toro Toramaru Austin Hobbes Che mi combina Che mi combina Vediamo un po' Se mi segna Anche Tiger drive Ce l'abbiamo Oh yes Ruggito della tigre E meno male che l'hanno tradotto Ruggito della tigre Perché se lo traducevano con Guida della tigre Era Tremendo Però non segna È difficile superare il tizio Ci puoi andare magari Provandoci con Tecniche Che sono forti Contro il tipo montagna Tipo il vento E magari appunto Potrebbe fare come Sean Che non l'ha parata Se era Axel Non Sean Però ecco Se tu Riesci a fare un pressing Aggressivo Gli fai finire i punti Però certo Ti devi proprio Sbudellare Per fargli un pressing Aggressivo Ok Ok Ragazzi Stiamoci tutti quanti Un attimo calmi Il fatto che Il capitano Della squadra Ogere Sia arrivato così vicino Non è un buon segno Mai Ok Axel Blades La tua ultima Occasione Per provare A brillare L'ho sprecata Volevo farlo brillare Ma Non ci è riuscito Eh Non ci arriverà mai In porta Però Intanto Ci proviamo Dai Buona Buona la potenza Se Taramaru Fosse un pochino Più forte Però insomma Questo legendary gate Dovrebbe essere Il più forte Da quello che ho capito In realtà ci sarebbe Ancora l'ultimo Che si trova Nella lost galaxy Nella galassia Sperduta Vedremo un po' Quello sarà l'ultimo gate Che farò Penso che lo farò Anche dopo sarges E non prima Ma devo un attimo Vedere se c'è Oppure no Ottimo Tre monete viola Che non sono affatto Male Sono davvero ottime Tre monete viola Servono per i reclutamenti Servono molto Per i reclutamenti Uh potrei già reclutare Masato Oh All'ogni modo Kuge Questo video termina Qui nel prossimo Non lo so Vedremo cosa fare Forse alla fronte La sarges Che sarebbe anche ora All'ogni modo Io come sempre Spero che il video Vi sia piaciuto Vi ricordo inoltre Che in descrizione C'è il link per Instagram E se ancora non siete Iscritti al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo Come sempre Al prossimo video Bye bye Ciao